La cistite non è proprio un disturbo simpatico, provoca minzione frequente con un bruciore, un fastidio a volte esasperante, quasi blocca lo svolgersi della vita quotidiana. Ma chi soffre di questo disturbo dovrebbe adottare delle strategie a base di rimedi naturali per rinforzare l'organismo soprattutto dopo, quando la crisi è passata e dovrebbe continuare per due o tre mesi per evitare definitivamente le ricadute. Ci vuole un po' di tempo, è vero, ma ne vale la pena.